La più grande bugia che ti insegnano a scuola. Ragazzi oggi video bomba, video di crescita personale, benvenuti sul canale, io sono Mickey Business, in questo canale parliamo di come crescere, come avere successo, come fare più soldi, soprattutto online, quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale perché questo canale è pieno di contenuti bomba. Vatti a vedere tutte le playlist ragazzi, andatevi a vedere perché c'è veramente tanti tanti video. Allora ragazzi la più grande bugia della scuola, questa è una delle tante, però farò forse di rientrare una serie sulla scuola perché ragazzi ragionavo l'altro giorno che a scuola una delle più grandi bugie è uno dei più grandi insegnamenti che ti danno, che è sbagliatissimo nella vita se ci pensate, è quello di non copiare. Non devi copiare, se tutti ti beccano a copiare sei in punizione, ti ritirano il compito, compito annullato e tutte queste cose qui e ti insegnano quindi a fare tutto da solo. Cioè sei tu contro tutti gli altri, in realtà questa qui è una più grande bugia mai vista. Perché? Allora partiamo proprio dal presupposto che tu per imparare qualcosa, per imparare qualcosa stai copiando qualcuno. Quindi in realtà anche l'insegnante, cioè l'insegnante che ti spiega, l'insegnante di matematica per imparare quella formula di matematica, per imparare quel concetto, l'ha copiato da qualcun altro che gliel'ha insegnato. Ok quindi già questa è una copia, già questa è una copia. Ok ragazzi? E quindi qua vediamo la prima dissonanza. Perché in realtà tu stai imparando, cioè per imparare qualcosa, per imparare a fare il cubo di Rubik, devi guardare, devi copiare le mosse da qualcuno che sa fare il cubo di Rubik. Ok ragazzi? Se tu vuoi imparare a fare business online, vai a vedere da qualcuno che ha un business online che funziona e dici, ascolta come fai? Fammi vedere, fammi copiare, fammi capire come fai. Se tu vuoi imparare a fare un canale YouTube, vai a vedere chi sta facendo un canale YouTube e come lo fa e vai a vedere e impari le cose. Quindi già questa è la prima grande dissonanza. Però anche solo il fatto di, magari io non sono bravo in matematica, sono più bravo in italiano, vado a copiare il mio compagno, ok? Il lavoro di gruppo, il lavoro di squadra, mi circondo io di persone che sono più brave di me nel fare determinate cose. Magari io sono più bravo a fare una cosa e lui è più bravo a fare un'altra. Io vado da lui e mi faccio spiegare, anzi lo copio e mi metto avanti. Infatti i più grandi imprenditori, in realtà sono quelli che andavano malissimo a scuola. Perché la scuola ti mette in una posizione in cui tu praticamente devi imparare a fare lo schiavo. Sei seduto dalla mattina alla sera, non devi copiare, non devi fare team working, non devi fare niente di tutte queste cose che in realtà servono nel business, nell'imprenditoria, eccetera. Quindi in realtà è una grandissima bugia, la bugia della scuola. La bugia della scuola che ti dice di non copiare. Vieni punito se copi. In realtà se copi hai successo. Per esempio, facciamo un esempio stupido, le copertine di YouTube. Cioè tu vuoi crescere su YouTube, faccio un esempio. Vai a vedere gli argomenti simili, copi più o meno degli argomenti simili. Se fai delle cose ex nuove, soprattutto all'inizio, cioè te lo puoi permettere di fare un argomento super nuovo che nessuno ha mai fatto quando sei già cresciuto. Ma all'inizio per crescere devi comunque più o meno ispirarti a qualcuno, ispirarti a qualcun altro. Ok? Quindi vai a vedere nella tua nicchia che tipo di copertine fanno, che tipo di titoli fanno. Li vai magari a copiare, gli vai ad aggiungere qualcosa di tuo, vai a copiare più o meno la miniatura. Perché tutte le miniature sono con la faccia a destra e la scritta a sinistra? C'è un motivo perché funziona così, ragazzi. E hanno visto che su YouTube funziona quel tipo di copertina lì. Per esempio MrBeast, scusate ho pigiato contro il tavolo, intanto qua. Un video un po' mosso, ragazzi. Mickey ti stai scuotendo troppo, scommentate. Mickey ti stai scuotendo troppo oggi. Allora, per esempio MrBeast, il più grande YouTuber incredibile. Lui a un certo punto c'era questa cosa delle thumbnail, che ancora tutti le fanno, che c'è la faccia così con la bocca aperta. Lui a un certo punto ha visto che, mettendo invece un sorriso, tipo così, il CTR, che è il click through rate, cioè la proporzione, quante persone hanno cliccato in base alle impression. Cioè, per esempio, se uno clicca sul video, se su dieci persone a cui è stato mostrato il video uno clicca, c'hai il CTR del 10%. Sì, 10%. Ok. E riesco a fare ancora dei calcoli base. Mettete like, ragazzi. E lui ha visto che aumentava il CTR se... Al posto di mettere così, metteva così. Ecco che, allora, dopo, lui ha cambiato le copertine e tutti a ruota hanno visto che MrBeast sta facendo così e le han cambiate tutti. Ok, ragazzi? Quindi bisogna copiare dai migliori. Bisogna capire le strategie che funzionano, quelle che non funzionano andare a copiarle. Quindi, se io sono... Quindi, per me, va bene, l'esempio della scuola, magari questo qui... Adesso non sto incitando a copiare tutti quanti a scuola, ok, ragazzi? Però è un invito, è che la scuola però ti insegna questa cosa, che non devi copiare. Non devi copiare. A te, oh, se copi, stai sbagliando. No, in realtà, nella vita reale, se copi, fai giusto. Perché è meglio copiare dai migliori, è meglio copiare... Cioè, se vuoi imparare a suonare... C'è un flauto. Se vuoi imparare a suonare il flauto, vai da uno che vedi un mostro del flauto, capisci come muove le dita, capisci come suona e impari. Ok, ragazzi? Non c'è nient'altro da fare, quindi in realtà è così. Nella vita reale bisogna ispirarsi, bisogna andare a vedere quello che funziona e andare a copiarlo e poi ci si aggiunge del nostro, ragazzi. Però è così. Invece a scuola dicono, no, non puoi copiare. Cioè, c'è lui, il secchione, bravissimo, in matematica, se lo copi e ti sgamano, vieni punito. Ok? Invece, bisognerebbe in realtà, secondo me, fare subito dei gruppi. Cioè, ovvero, lui è bravo in matematica, tu sei bravo in filosofia, tu sei bravo in statistica. Non so, mi invento delle materie, la geografia, storie, eccetera. Si fa un team building e si valuta il gruppo, perché è così, ragazzi, che le grandi aziende poi sono diventate grandi. Cioè, Jeff Bezos, lui non lo sa come si fa il codice per mettere il prodotto su Amazon, eccetera. Ha preso un programmatore, il top programmatore, gli ha detto, no, devi fare così. Ok? Lui non lo sa come si guida un camion o come si fa una consegna perfetta. Lui ha preso i top driver e i top, c'è, capite, ragazzi? E questo qui è il concetto che voglio trasmettermi con questo video. Quindi, secondo me, la scuola, ragazzi, in realtà è fatta per creare dei, è brutto da dire, ma degli automi che sono praticamente degli schiavi. La scuola crea schiavi, purtroppo. Questo è un po' triste da dire, però questa è la grande bugia della scuola, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Nei commenti, oggi un video un po' diverso così, mi è venuto questa cosa. Quindi, ragazzi, nella vita copiate. Cioè, copiate dai migliori, andate a vedere le loro strategie, andate a vedere cosa c'è di buono nelle loro aziende, nel loro business, nei loro canali YouTube, in base a quello che dovete fare e andate a copiare, a capire che cosa fanno. Perché altrimenti non imparate. Cioè, copiare, copiare, cioè copiare per copiare, copio il risultato, è una cosa, ma copiare capendo, e quindi in realtà andiamo a imparare. Copiare significa anche imparare. Cioè, noi quando, quando è che iniziamo a parlare, quando siamo bambini, perché copiamo i movimenti dei suoni dei nostri genitori, di chi abbiamo intorno. Cominciamo a camminare perché vogliamo copiare quella persona. Cioè, copiare non è una cosa negativa, copiare è una cosa positiva, ok ragazzi? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo, un prossimo video, andatevi a vedere nel mio canale, ci sono metodi per guadagnare online, altri video di crescita personale, andate a vedere, finanza personale, super. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo, un prossimo video.